Benvenuti. In questo video vedremo come calcolare seno e coseno per alcuni angoli non speciali. Allora, noi sappiamo che ci sono degli angoli particolari 0, pi greco sesti, pi greco quarti, pi greco terzi, pi greco mezzi, pi greco e 2 pi greco, oppure 0, 30, 45, 60, 90, 180 e 360 gradi. In questi casi il calcolo del seno e del coseno è piuttosto facile e noi già sappiamo che seno di 0 vale 0, coseno di 0 vale 1, eccetera, sfruttando alcune proprietà geometriche dei triangoli rettangoli con un angolo di 30, un angolo di 60, un angolo di 45 gradi, oppure altre proprietà geometriche immediate della circonferenza goniometrica. Ora, esiste però anche la possibilità di calcolare in modo analitico, senza usare la calcolatrice e senza usare formule particolarmente complesse, anche il seno e il coseno per alcuni angoli al di fuori di questi. Come vedremo, il metodo non può essere facilmente applicato a tutti gli angoli, ma ad alcuni sì. Per prima cosa ricordiamo le formule di addizione e di sottrazione per il seno e per il coseno. Seno di alfa più beta è uguale a seno di alfa per coseno di beta più seno di beta per coseno di alfa. Seno di alfa meno beta è uguale a seno di alfa coseno di beta meno seno di beta coseno di alfa. Coseno di alfa più beta è uguale a coseno di alfa per coseno di beta meno seno di alfa per seno di beta. E coseno di alfa meno beta è uguale a coseno di alfa coseno di beta più seno di alfa seno di beta. E in particolare di queste formule ricordiamo il caso particolare delle formule di duplicazione. Quando cioè α e β sono uguali, allora le formule di addizione per il seno e per il coseno diventano rispettivamente queste, ovvero seno di 2α è uguale a due volte il seno di α per il coseno di α, e il coseno di 2α diventa il coseno al quadrato di α meno il seno al quadrato di α. Queste in particolare ci risulteranno molto utili per alcuni calcoli e ci permetteranno di calcolare anche seno e coseno per alcuni angoli fuori da quelli speciali di cui abbiamo già ricordato all'inizio. Vediamo un esempio, π dodicesimi, ovvero 15 gradi. Di per sé non esiste alcuna proprietà geometrica evidente per i triangoli di rettangoli con un angolo di 15 gradi. Eppure anche di questo angolo non riusciamo a calcolare seno e coseno in modo esatto. Vediamo come. Allora, per prima cosa notiamo che π dodicesimi, altro non è che π sesti diviso 2, ovvero π sesti è due volte per π dodicesimi, semplicemente invertendo l'operazione. E questo vuol dire che il coseno di π sesti può essere scritto come il coseno di 2 volte π dodicesimi. Ma a questo punto, fin qui, stiamo semplicemente facendo manipolazione algebrica. Ma a questo punto possiamo usare la formula di duplicazione del coseno. Coseno di π sesti è uguale al coseno quadro di π dodicesimi meno il seno quadro di π dodicesimi. Possiamo proseguire e scrivere il seno quadro usando la relazione trigonometrica fondamentale, quindi come 1 meno coseno quadro di π dodicesimi. E possiamo andare ancora avanti, ovvero eliminando le parentesi e cambiando il segno. A questo punto abbiamo coseno quadro meno 1 più coseno quadro, otteniamo in definitiva il coseno di π sesti è uguale a 2 volte il coseno quadro di π dodicesimi meno 1. Ora, volendo potremmo proseguire direttamente con questa equazione, perché il coseno di π sesti è qualcosa di noto, ma ci conviene cambiare variabile, introdurre una variabile t coseno di π dodicesimi. In questo modo la nostra equazione risulta coseno di π sesti uguale a 2t quadro meno 1, un'equazione algebrica. Un'equazione algebrica di secondo grado che può essere immediatamente risolta. infatti, come vediamo, questa è un'equazione in cui non è presente il termine lineare in t, e pertanto possiamo tranquillamente ascrivere che t è uguale a più o meno la radice di 1 meno coseno di π sesti diviso 2. Attenzione però! scartiamo la soluzione negativa. Perché? Perché l'angolo di cui stiamo cercando, π dodicesimi, è 15 gradi. Appartiene quindi al primo quadrante. Noi sappiamo che nel primo quadrante seno e coseno sono entrambi positivi, quindi la soluzione negativa in questo caso non si applica e dobbiamo scartarla. A questo punto siamo arrivati a scrivere che coseno di π dodicesimi è uguale alla radice di 1 più coseno di π sesti mezzi, ma in realtà abbiamo tutto perché il coseno di π sesti già lo conosciamo. E quindi, prima razionalizzando, andiamo a riscrivere il coseno di π dodicesimi come un mezzo per la radice di 2 che moltiplica 1 più il coseno di π sesti, e successivamente, esplicitando il coseno di π sesti, andiamo a scrivere coseno di π dodicesimi uguale a un mezzo per la radice di 2 più radice di 3. Infatti, ricordo che il coseno di π sesti, ovvero coseno di 30 gradi, è radice di 3 mezzi. Ora, come vediamo, abbiamo ottenuto il risultato senza approssimazioni di calcolatrice, abbiamo ottenuto il risultato esatto, ma adesso, se vogliamo controllare, facciamo la controprova. Usiamo la calcolatrice per calcolare un mezzo per la radice di 2 più radice di 3. Ok, otteniamo 0,9659 eccetera. Se invece usiamo la calcolatrice per calcolare il coseno di π dodicesimi, otteniamo 0,9659 eccetera. Insomma, quel che si dice un buon accordo. Volendo potremmo anche aggiungere cifre ai conti, a seconda della precisione, naturalmente, del nostro calcolo, otterremo sempre la stessa cifra. Infatti, i due risultati, l'abbiamo dimostrato, sono coincidenti. Ora, questo per quanto riguarda il coseno. Per quanto riguarda il seno? Allora, avendo già trovato il coseno, ci basterebbe usare la relazione trigonometrica fondamentale, 1 meno coseno quadro, e ottenere il seno. Va bene. Tuttavia, per comodità e per convenienza, vediamolo in modo diretto. E poi, eventualmente, facciamo il confronto. Allora, seno di π sesti, formula di duplicazione del seno, è uguale a due volte il seno di π dodicesimi per il coseno di π dodicesimi. Usando lo stesso argomento che abbiamo usato per il coseno. Qui, come vediamo, non abbiamo un seno o un coseno al quadrato, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è elevare al quadrato ambo i membri. Quindi seno quadro è uguale a 4 volte il seno quadro di π dodicesimi per il coseno quadro di π dodicesimi. Ed è a questo punto che possiamo applicare la relazione trigonometrica fondamentale. Non è importante, se decidiamo di andare a riscrivere il seno o il coseno quadro di π dodicesimi, perché la relazione si applica sia all'una sia all'altra, e l'unico ha, e non ci sono altre funzioni trigonometriche incognite, perché seno di π sesti in realtà noi lo conosciamo. Tuttavia stiamo cercando qual è il valore del seno di π quadro di π dodicesimi e quindi applichiamo la relazione trigonometrica fondamentale al coseno. Otteniamo quindi 4 seno, che è il seno quadro di π sesti, è uguale a 4 volte il seno quadro di π dodicesimi per 1 meno il seno quadro di π dodicesimi, sostituendo il coseno. A questo punto sviluppiamo tutta l'algebra, otteniamo 4 seno quadro di π dodicesimi meno 4 seno alla quarta di π dodicesimi e sembrerebbe che in realtà siamo in alto mare. Perché quella che viene fuori è seno quadro di π sesti uguale a 4 seno quadro di π dodicesimi meno seno alla quarta di π dodicesimi. Sembrerebbe quindi che sì, siamo davvero in alto mare, perché questa è un'equazione di quarto grado, ma in realtà non è così. Se guardiamo, infatti, seno quadro di π sesti è nota. E la funzione ignota, la nostra incognita, cioè il seno di π dodicesimi, compare soltanto al secondo e al quarto grado. Il che significa che questa è un'equazione di secondo grado in seno quadro di π dodicesimi. Quindi cambiamo variabile e mettiamo t uguale a seno quadro di π dodicesimi. Con questo cambio di variabile l'equazione diventa 4t quadro meno 4t più seno quadro di π sesti uguale 0. e poiché π sesti è una quantità, seno di π sesti è una quantità nota, questa è un'equazione algebrica di secondo grado in t e possiamo risolverla. Adottiamo naturalmente le solite tecniche, quindi 4t quadro meno 4t più seno quadro di π sesti uguale 0 e risolvendo rispetto a t otteniamo che t è uguale a 4 più o meno la radice di 4 al quadrato 16 meno 16 per il seno quadro di π sesti, ovvero il tutto fratto 8, 2 volte 4. ovvero possiamo raccogliere un 4 dalla radice, infatti qui abbiamo 16, qui abbiamo 16, 16 però è 4 al quadrato, quindi possiamo portarlo fuori dalla radice e scrivere che t è uguale a 4 più o meno 4 per la radice di 1 meno seno quadro di π sesti, il tutto fratto 8. Adesso, risolvendo, o meglio riscrivendo, razionalizzando e ricordandoci che noi il seno quadro lo conosciamo, abbiamo che cosa? Per prima cosa notiamo che 1 meno seno quadro di π sesti altri non è che il coseno quadro di π sesti. Però sotto radice possiamo tranquillamente eliminare la radice. inoltre 4, 4, 8 possiamo raccogliere al numeratore un 4 e andare a riscrivere il tutto come 4 fratto il denominatore come un mezzo. Pertanto t è uguale a un mezzo più o meno che moltiplica 1 più o meno coseno di π sesti. attenzione però ricordiamo che t indica il seno quadro di π dodicesimi e il seno quadro di un angolo è sempre minore di 1 perché il seno è sempre compreso fra meno 1 e 1. Questo significa che una di queste due soluzioni quella con il più o quella con il meno deve essere scartata. Deve essere scartata perché in realtà viene una soluzione maggiore di 1 e quindi non è accettabile. Nel caso specifico se scriviamo 1 più coseno coseno di π sesti è radice di tre mezzi abbiamo 1 più radice di tre mezzi il tutto diviso 2 e 1 meno radice di tre mezzi il tutto diviso 2. Una di queste due soluzioni è maggiore di 1 calcolatrice alla mano se non ci si fida e dobbiamo pertanto scartarla. Il risultato eccolo qui è che il seno quadro di π dodicesimi è uguale a un mezzo che moltiplica 1 meno radice di tre mezzi. poiché questo era un seno quadro possiamo adesso andare a riscrivere il seno seno prima di tutto raccogliamo un mezzo al denominatore perché è conveniente in questo modo otteniamo un quarto per 2 meno radice di 3 e quindi otteniamo mettendo la radice seno di π dodicesimi è uguale a un mezzo per la radice di 2 meno radice di 3 che significa che se torniamo alla nostra soluzione algebrica abbiamo scartato la soluzione con il più provare per credere. in questo invece in questo passaggio nel passaggio cioè dal seno quadro al seno scartiamo la soluzione negativa per lo stesso argomento che abbiamo usato nel caso del coseno e cioè che il seno nel primo quadrante è positivo e π dodicesimi si trova nel primo quadrante come già in precedenza vediamo controprova calcolatrice e anche in questo caso notiamo che la controprova calcolatrice ci dà un buon risultato abbiamo infatti che se calcoliamo un mezzo per la radice di 2 meno radice di 3 otteniamo 0,2588 eccetera mentre il seno di π dodicesimi calcolato direttamente sulla calcolatrice è uguale a 0,2588 eccetera eccetera e le cifre decimali provare per credere sono le stesse a qualunque approssimazione anche in questo caso quel che si dice un buon accordo provare per credere questo risultato è esattamente quello che otterremmo nel caso di applicazione della formula trigonometrica fondamentale della relazione trigonometrica fondamentale perché se ricordiamo andiamo indietro di qualche pagina il coseno aveva la stessa di π dodicesimi aveva la stessa forma ma con il segno più un mezzo per la radice di 2 più radice di 3 e il seno è un mezzo per la radice di 2 meno radice di 3 elevando a quadrato raccogliamo un quarto sommiamo i due ottenendo 2 più 2 che fa 4 e le radici di 3 una col più una col meno danno semplicemente 0 il totale è 4 quarti ovvero 1 il conto torna a questo punto potremmo essere tutti contenti confusi e felici e invece no perché in questo caso abbiamo ottenuto solo un'equazione algebrica di secondo grado un'equazione che sappiamo risolvere facilmente ma in altri casi l'equazione algebrica che viene fuori è molto più fastidiosa prendiamo l'esempio di π diciottesimi ovvero 10 gradi 10 gradi non possiamo usare le formule di duplicazione perché il doppio di 10 è 20 20 non è un angolo particolare potremmo usare le formule di triplicazione se ne esistessero di comode ma in realtà le otteniamo direttamente possiamo ottenerle attraverso le formule di addizione in un caso generico allora se definiamo alfa come π noni e beta come π diciottesimi non è difficile rendersi conto che la loro somma dà π6 infatti questo porta a un 2π alfa è 2π diciottesimi più 1 più 1π diciottesimi fa 3π diciottesimi 3 e 18 si semplificano π sesti pertanto possiamo usare le formule di addizione in modo da ottenere un riferimento conosciuto quindi usiamo le formule di addizione per cui coseno di alfa più beta cioè coseno di π sesti viene scritto come coseno di π noni più π diciottesimi fin qui nulla di strano il passaggio successivo è usare la formula di addizione per il coseno per scrivere coseno di π noni per seno di π diciottesimi ma attenzione perché π noni è proprio il doppio di π diciottesimi quindi possiamo usare ancora le formule di duplicazione per scrivere coseno e seno di π noni rispettivamente come il coseno quadro di π diciottesimi meno il seno quadro di π diciottesimi e il seno di π noni come due volte il seno di π diciottesimi per il coseno di π diciottesimi e a questo punto andiamo a sostituire questi due risultati all'interno della nostra equazione al posto del coseno e del seno di π noni otteniamo che il coseno di π sesti uguale al coseno quadro di π diciottesimi meno il seno quadro di π diciottesimi il tutto moltiplicato per il coseno di π diciottesimi meno due volte il seno di π diciottesimi per il coseno di π diciottesimi il tutto moltiplicato per il seno di π diciottesimi adesso possiamo semplificare un po' questo arzigogolo algebrico utilizzando ancora una volta la relazione trigonometrica fondamentale fondamentale perché allora qui possiamo tranquillamente sostituire seno quadro di π diciottesimi con 1 meno il coseno quadro e infatti eccolo qua nel secondo membro invece noi notiamo che qui non ci sono somme c'è già un prodotto ed è due volte seno per coseno per seno dello stesso angolo quindi questo è meno due volte il seno quadro per il coseno e seno quadro possiamo riscriverlo come 1 meno il coseno quadro ecco qua il tutto moltiplicato ancora per il coseno nell'uno e nell'altro caso ancora algebra perché qui andiamo semplicemente a effettuare il nostro cambio di variabile per semplificarci un po' le cose con t quadro uguale coseno di π diciottesimi t uguale coseno di π diciottesimi non t quadro e otteniamo che il coseno di π è uguale a t quadro t quadro meno 1 meno t quadro t quadro meno 1 meno t quadro il tutto moltiplicato per t e meno 2 per 1 meno t quadro il tutto moltiplicato per t infatti ecco qua t quadro meno 1 meno t quadro per t meno 2 per 1 meno t quadro il tutto moltiplicato ancora per t a questo punto però già qui si vede qualcosa non va e infatti andando a riscrivere a sviluppare tutta l'algebra otteniamo che la nostra equazione risulta 4t al cubo meno 3t meno coseno di π sesti uguale 0 e questa è un'equazione cubica un'equazione cubica tra l'altro non immediatamente risolubile e non riducibile a un'equazione di grado inferiore è un'equazione possibile ma certo esistono relazioni per risolvere equazioni cubiche di grado 3 e anche di grado 4 equazioni quartiche il problema è che sono relazioni sempre più complicate il problema numero 2 sorge quando cerchiamo soluzioni di grado ancora superiore quindi equazioni algebriche di quinto sesto settimo decimo grado e possono emergere via via che andiamo a cercare angoli sempre più specifici perché non ci sono solo 15 o 10 gradi se noi volessimo cercare un angolo di 13 gradi diventerebbe a quel punto molto difficile riuscire a incastrarlo con uno degli angoli che conosciamo quindi 45 30 60 eccetera e a quel punto diventa molto difficile usare le formule di addizione di addizione nel caso addirittura più specifico di duplicazione per effettuare il calcolo e a quel punto non c'è più alcuna possibilità di fatto di ottenere una soluzione esatta a quel punto entrano in gioco soltanto delle tecniche numeriche più evolute che possono essere implementate e infatti sono quelle che utilizzano le calcolatrici che permettono un più rapido calcolo della funzione ma delle quali almeno a questo livello non ci interessa e quindi eviteremo di introdurle d'altro canto possiamo avere almeno la certezza che effettivamente questa equazione sia almeno formalmente corretta come? beh proviamo a a calcolare pi greco diciottesimi usando la calcolatrice e a sostituire all'interno dell'equazione stessa cosa otteniamo? allora prima di tutto t ovvero pi greco diciottesimi il coseno di pi greco diciottesimi è 0,9848 eccetera usando la calcolatrice andando a sostituire questo valore nella nostra equazione 4 di cubo meno 3t meno coseno di pi greco sesti uguale 0 otteniamo 4 per 0,9848 al cubo meno 3 per 0,9848 al cubo meno coseno di pi greco sesti noi già sappiamo essere circa 0,866 andando a svolgere i calcoli qui sono semplicemente calcoli aritmetici otteniamo effettivamente un 3,82 meno 3,82 e quindi 0 uguale 0 l'identità è confermata quindi nonostante la risoluzione dell'equazione algebrica sia tutt'altro che agevole è comunque possibile e l'impostazione del problema è corretta per quello che può interessare a noi eviteremo di discutere equazioni di grado superiore al secondo e quindi questo problema tutto sommato non viene a porsi